Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo una maglia speciale di Stella McCartney per l'Arsenal per la stagione in corso, in edizione FAN. Grazie per la visione! Mentre in sovraimpressione vedete il prezzo, vediamo un po' questa maglia. Nei dettagli è veramente molto bella, è una maglia fatta per il team femminile dell'Arsenal, sui siti che poi utilizzo si trova anche in versione maschile. Molto bella, molto elegante, dai colori sicuramente un po' tenui. Se volete ordinare la maglia trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale, prima però iscrivetevi al canale, spingete questo pulsante. A voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi tutti i giorni maglie come questa. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti! Grazie.